Una lacrima color turchese, fiaba di Natale adatta a questo periodo, una fiaba molto dura, oserei dire cattiva, una denuncia sul perbenismo natalizio, l'ipocrisia, la bontà che tiriamo fuori solo Natale, il Gesù, il bambin Gesù riscoperto e collocato solo una volta l'anno nei presepi, salvo molte eccezioni, è una storia di sottrazione, di scomparsa, un accenno dai presepi di un paesino, la mattina manca la statuina del Gesù, poi un'altra famiglia scopre lo stesso furto, poi tutto il paese, poi la regione, l'Europa e il mondo intero, alla fine dai presepi di tutto il pianeta era scomparsa la statuina del bambin Gesù, dove era finita, chi era la colpa, chi era stato il ladro, Satana, il male trionfa sul bene, forse la soluzione è molto più semplice, un Natale. Grazie a tutti.